La prossima volta che mangi un'ananas devi sapere che in realtà sta mangiando te Perché la tua bocca ogni volta ti formicola e senti prurito ogni volta che mangi un'ananas Questo perché le ananas contengono un'enzima speciale chiamato bromelina che hanno un gusto per la carne umana Il suo unico compito è quello di digerire le proteine Dal momento in cui il tuo corpo è formato da proteine L'ananas che mangi in realtà prova a digerire te partendo dalla bocca e dalla lingua Ma niente paura, quando ingoi l'ananas, gli acidi nel tuo stomaco distruggono questa enzima